Musica Doppio appuntamento per la Torino-Lione Da Bruxelles si attende il Via dell'Europa Torino in Prefettura, le misure antiviolenza La manifestazione notabile domenica Buonasera dal telegiornale RAI del Piemonte Apriamo con il collegamento ferroviario Torino-Lione Che domani a Bruxelles dovrebbe essere inserito Nell'elenco delle opere ammesse ai finanziamenti dell'Unione Europea E intanto si scalda anche il clima Intorno alla manifestazione dei Notav annunciata per domenica prossima Da molte parti si è chiesto di vietarla Ma domattina si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Dal Ministro Maroni l'invito a dissociarsi da ogni episodio di violenza Da Torino, dall'osservatorio che si riunirà domattina in Prefettura Mario Virano che rientra stasera da Lione Aspetterà notizie da Bruxelles dove la Commissione Europea Domani renderà noto l'elenco delle grandi opere ammesse Al finanziamento dell'Unione Europea di qui al 2020 La Torino-Lione e Inglizza con le grandi reti europee transfrontaliere Per noi la tratta internazionale tra le due stazioni Saint-Jean-de-Maurienne e Susa Compresa la Galleria sotto le Alpi Il contributo atteso è di 2 miliardi e 400 milioni Ecco intanto lo spot che Transpadana ha preparato L'ha presentato stamattina a Torino Andrà in onda sulle nostre reti Nuove linee veloci per i grandi corridoi europei Da Genova a Milano e da Lione a Lugiana Collegando Torino e Trieste Transpadana Il futuro si costruisce insieme A partire dalla Torino-Lione E mentre Virano attenderà notizie da Bruxelles Domani in un'altra sala della prefettura Si riunirà il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico Al prefetto De Pace la decisione se vietare Il corteo annunciato per domenica in Val Susa Si teme il bis di luglio I sette assalti dell'estate Dove verrà scavata la galleria di sondaggio L'ordine è infatti quello di portarsi le cesoie Per abbattere la recinzione del cantiere a Chiomonte Un reato, la procura è già allerta Chiedo a tutti Quindi agli abitanti della Val di Susa E agli amministratori locali Di non farsi strumentalizzare È necessario che tutti Assumano l'impegno di isolare i violenti E di metterli nelle condizioni di non nuocere Ma domenica Chi vorrà manifestare il proprio dissenso Lo potrà fare in Val Susa L'ho lasciato capire oggi Il Ministro Maroni in Senato Ha detto Ho allertato il Prefetto di Torino Ho dato indicazioni perché vengano prese le misure Per evitare ogni episodio di violenza Invito anche gli amministratori locali A dissociarsi da ogni episodio violento E i poliziotti del Sjulp Stamattina hanno manifestato davanti alla Prefettura di Torino Hanno chiesto che si evitino scontri Incidenti spese per le casse pubbliche La guerriglia contro le forze dell'ordine a Chiomonte Messe in atto da professionisti della violenza Costa al contribuente 90.000 euro al giorno È stato bellissimo Grazie.